ok ragazzi il navigatore l'ho messo qua al portatelefono anche perché non avevo un altro attacco che andava come questo qua che c'è sul portacellulare per mettere il navigatore e quindi l'ho messo qua così ogni volta che voglio uscire prima apro il portacellulare poi attivo il gps qua ci sta la mappa quando poi andrò fuori eccola qui e niente ragazzi poi si va qua vabbè posso fare il percorso di già e andando da qua ho messo il tipo di movimento la velocità verticale la distanza destinazione quando c'è il tramonto e la presa altitudine pressione altitudine a pressione atmosferica e niente questo era l'unboxing del bike pilot poi quando prima possibile faremo anche una velocità una testabilità su strada e niente non ti piace commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli